il giorno più bello ci siamo? ma io? Rita, ti stai a sito? quando faccio 6 minuti? ah, dice due da stare a gestare comunque poi li devo tagliare allora Valentina, Daniele Oggi è il vostro giorno più bello. Noi da San Nicandro ci teniamo a farvi i nostri auguri. Se è passato da queste parti ci fa piacere vedervi, invitarvi da noi. Valentina e Daniele vi auguro tanta felicità e tanti auguri e un saluto, abbracci agli vostri invitati. Credo di rivederci. Intanto noi brindiamo a voi auguri.